Da Melilli intanto si alza forte il grido della popolazione residente che chiede una maggiore tutela. Sul fuori servizio che si è verificato domenica mattina allo stabilimento Versalis c'è qualcuno che bara, che non dice la verità. Ad affermarlo è la consigliera comunale melillese Daniela Ternullo che ancora continua i cittadini che vivono nei centri del petrolchimico di Melilli e Auguste Priolo hanno il diritto di sapere e di conoscere la verità su cosa sia realmente accaduto. Per la consigliera su questa vicenda ci sono due verità. Da una parte la protezione civile che invitava a chiudere le finestre e di evitare di uscire di casa. Dall'altra un laconico comunicato della Versalis che ha fatto riferimento ai rilevamenti della centralina dell'ARPA. Secondo l'Agenzia regionale per l'ambiente non sarebbero stati sforati i limiti consentiti dalla legge per emissioni in atmosfera. Si tratta di due versioni che contrastano tra di loro. Sta di fatto che domenica mattina l'aria era irrespirabile non solo a Melilli ma anche nelle città vicine. La nuvola di vapore mista, idrocarburi, l'abbiamo vista tutti, non è certo un'invenzione della popolazione. Aspetto la convocazione del prossimo Consiglio Comunale di Melilli per chiedere all'amministrazione di accertare i fatti perché in questo triangolo abbiamo pagato e continuiamo a pagare un prezzo troppo alto per questioni ambientali. Anche la procura di Siracusa vuol vederci chiaro sulle cause che hanno provocato la nube che si è sprigionata nell'aria. La puzza naso abbonda dall'impianto della Versalis con disagi. Sul fronte giudiziario relativa all'inquinamento di origine industriale registriamo una frenetica attività di indagine da parte della procura sull'alterazione dell'aria, del mare e della falda acquifera. Negli ultimi giorni sono stati eseguiti negli stabilimenti sotto accusa una serie di accertamenti tecnici ripetibili alla presenza degli indagati, dei consulenti della procura, degli investigatori della NICTAS, della SPOT e della Guardia di Finanza.